La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E andiamo avanti con l'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, intermediazione assicurativa indipendente. Il premio va a Sceltia. Per essere un broker assicurativo indipendente sul mercato, che rappresenta sempre gli interessi del cliente e non quelli delle compagnie di assicurazione. Per intercettare con impegno e competenze diversi bisogni dei clienti e trasferire loro valore aggiunto. Benvenuto, grazie per essere qui. Le foto per lei. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, intermediazione assicurativa indipendente. Grazie. Grazie mille. Buona serata. Siamo in compagnia di Alberto Maria Maturi, CEO di Sceltia. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Questa sera la vostra realtà ha ottenuto il riconoscimento nel settore della promozione e intermediazione assicurativa. Un commento a questa vittoria. Beh, fa sempre piacere ricevere un riconoscimento del lavoro che è stato svolto in questi anni. Noi abbiamo, come dire, scommesso nel lontano 2015 sull'evoluzione del mercato e sul fatto che i broker indipendenti potessero conquistare una importante quota di mercato, in particolare nel vita dove operiamo noi. Per cui il fatto che oggi ci troviamo premiati per questa attività e per aver ormai conseguito una posizione sul mercato ci fa ovviamente un grande piacere. Sceltia è una società di broccheraggio assicurativo totalmente indipendente dalle compagnie assicurative e che si focalizza sul territorio con un mercato incentrato sulle famiglie, sulle PMI e sui piccoli artigiani. Le chiedo se ci può illustrare meglio la vostra storia e il vostro approccio. Sì, come le dicevo prima, Scelt è nata da, diciamo, un'intuizione nel 2015, laddove abbiamo scommesso che anche il mercato assicurativo andasse nella direzione di dove si era evoluto il mercato finanziario e quindi che assumesse un peso rilevante, una distribuzione che fosse realmente indipendente dalle compagnie assicurative e quindi dalle fabbriche prodotto e con una particolarità dove la veste del broker era per noi importante perché questo costituiva l'essenza della nostra missione dove, come sappiamo per il broker, è il cliente al centro della propria attenzione perché noi non abbiamo nessun mandato di rappresentanza, però distinguendoci dagli altri colleghi proprio nel senso che ha detto lei, quindi andando a posizionarci sul territorio in maniera articolata e, come dire, molto diffusa per portare a quello che era un mercato tendenzialmente non coperto dall'attività dei broker, quindi il mercato delle famiglie, dei retail, dei piccoli e medie imprese, degli artigiani, quell'offerta e quella possibilità di scegliere tra prodotti diversi e interluquendo con dei professionisti del settore che potessero fornirli delle soluzioni che fino a quel momento potevano non essere soddisfatte da quello che era il mercato degli agenti, ovvero della banca assurance. Quali sono i vostri progetti e obiettivi per il futuro? Beh, allora noi oggi, come le dicevo prima, abbiamo conquistato una buona quota di mercato, siamo ormai circa 300 persone che operano in quasi tutta Italia, suddivisi su 16-17 uffici locali, ma è chiaro che noi, come tutti i distributori, siamo condannati alla crescita, quindi i nostri obiettivi sono ancora più ambiziose e noi oggi, come dire, siamo ormai all'interno delle prime posizioni nella graduatoria dei broker, ma vogliamo scalare per entrare nella top 10, quindi operiamo molto sulla parte di reclutamento e stiamo aggregando delle nuove collaboratori, stiamo aprendo delle nuove sedi e questo vogliamo continuare a fare nei prossimi anni, e per questa via incrementare, come dire, il nostro posizionamento sul mercato, la nostra diffusione sul territorio e ovviamente, come dire, i nostri risultati economici, il nostro volume di commissioni che ci possa posizionare su dei livelli ancora superiori rispetto a dove siamo posizionati attualmente. Grazie a tutti.